Buonasera a tutti, scusatemi se non sono riuscito a essere con voi fisicamente, è davvero una settimana un po' complessa, per cui ci tenevo in ogni caso a esserci a partecipare, seppure da remoto a questo appuntamento che ormai è diventato abbastanza una tradizione, quindi grazie per l'invito direttore e complimenti per il vostro lavoro. Grazie, grazie mille, grazie a Silvia Gasparetto che segue quotidianamente l'attività della Presidente Meloni insieme al collega Cappelleri e a tutti i colleghi della redazione politica che è guidata sempre con grandissima saggezza da Giuseppe Tito, che saluto, sono a Montecitori a lavorare mentre noi invece siamo qui. Allora Presidente, non abbiamo visto insieme il libro perché siamo distanti e non riusciamo a sfogliarlo insieme, però noi guardando le fotografie di quest'anno volevamo appunto cominciare con lei questa chiacchierata da quello che sta succedendo in Medio Oriente. Ci sembra chiaramente il tema più pressante, come ci ha ricordato anche il Presidente Anselm, dal 7 ottobre abbiamo visto qualcosa di incredibile, la ferocia dei terroristi di Hamas e poi abbiamo visto una reazione di Israele che ha colpito migliaia di civili. L'opinione pubblica è disorientata e veramente non si riesce a capire chi può prendere il bandolo della matassa e come si può provare a far ragionare e a cominciare a costruire un percorso. Io le volevo chiedere proprio questo, secondo lei che cosa si può fare concretamente come Paesi del G7, come comunità internazionale con le difficoltà che conosciamo per provare ad aprire lo spazio per una soluzione politica che possa essere definitiva? E le chiedo anche se anche lei crede che in questo Paese, da noi, nella nostra opinione pubblica, ci sia un antisemitismo strisciante. Guardi, parto dalla seconda. Io penso che l'antisemitismo sia un problema reale, che sia un problema reale che sta crescendo in tutta Europa e in tutto l'Occidente. Spesso mascherato da critica verso Israele. Penso che le tante manifestazioni convocate come manifestazioni a favore della Palestina e poi di fatto risoltesi in manifestazioni che inneggiavano a Damas, ne siano purtroppo una spia molto preoccupante, perché ovviamente le due cose sono molto diverse. Ovviamente questo antisemitismo in Europa e nell'Occidente cresce soprattutto all'interno delle comunità islamiche che sono insediate nei nostri Paesi, però penso che quello che debba colpire ancora di più è che si sta facendo largo anche a di fuori di questi contesti, come dimostrano ad esempio le denunce che sono state fatte da diversi analisti circa quello che accade in diversi campus universitari occidentali. È un fenomeno che deve preoccuparci, contro il quale ovviamente bisogna lavorare ad ogni livello. Per quello che riguarda l'Italia, noi come sapete abbiamo anche un commissario che si occupa di questa materia. Dopo gli attacchi di Hamas ci siamo soprattutto occupati di rafforzare le misure di protezione nei confronti delle comunità ebraiche che ci sono qui da noi. Noi abbiamo posto il tema anche in Europa, è una delle materie che si discutono anche al prossimo Consiglio europeo, ma chiaramente anche qui la questione è soprattutto culturale ed è un fenomeno che deve riguardare tutti e che deve avere da parte di tutti noi il massimo della concentrazione, perché è un cancro che bisogna sconfiggere. Sul tema del conflitto, guardi, io penso intanto, e lo colleghiamo al primo tema, diciamo, che non si possa trattare questa materia senza ripartire sempre dall'orrore che è stato scatenato da Hamas, dalla ferocia disumana che non ha risparmiato neanche donne e bambini e che racconta la disumanizzazione dell'altro. E io penso che quello che è accaduto debba essere condannato sempre e senza ambiguità, perché se noi ci abituiamo all'orrore davvero abbiamo un problema serio. E lo dico anche per dire, arrivando al tema più politico, che dal mio punto di vista, e l'ho detto dall'inizio, da quel 7 ottobre, quella ferocia potrebbe avere anche un intento, diciamo così, politico. Cioè io mi sono sempre chiesta perché ci fosse bisogno di mettersi una telecamera in testa per riprendere scene raccapriccianti come quelle che noi abbiamo visto lo scorso 7 ottobre. E l'impressione che ho, l'idea che mi sono fatta, è che, diciamo, mostrare al mondo quella ferocia fosse anche un tentativo per costringere Israele a una risposta tale da aprire un solco incolmabile con i paesi islamici della regione che stavano cercando di normalizzare i loro rapporti con Israele, i famosi accordi di Abramo e quant'altro. E penso che questa sia una trappola nella quale noi non dobbiamo cadere. Penso che da parte di Hamas la questione palestinese sia stata utilizzata e venga utilizzata per in realtà procurare ben altro, cioè una guerra di civiltà. E se partiamo da questa lettura o da questa consapevolezza, è evidente che la prima cosa che noi non dobbiamo smettere di fare e dialogare con i paesi arabi della regione, con i paesi islamici, che è l'impegno che anche il governo italiano è la sottoscritta segnatamente. Ricordo di essere stata l'unico leader del G7 a partecipare alla conferenza che è stata convocata al Cairo dal presidente egiziano al Sisi e sono praticamente quotidiani i miei colloqui con questi paesi. Era stata raggiunta una tregua, come voi sapete, che poi è stata violata, ma era grazie soprattutto al lavoro di dialogo che si continua a fare, che si fa con questi attori importanti della regione. Questa è la prima cosa, secondo me, che bisogna continuare a fare. Sul tema della tregua chiaramente bisogna insistere. La seconda cosa che secondo me bisogna fare per svelare anche questo blef di Hamas e dare una concretezza a una soluzione per la questione palestinese vuol dire darsi dei tempi e io credo che in questo, per esempio, l'Unione Europea possa sicuramente giocare un ruolo non secondario. Penso anche che un ruolo importante lo giochi in questo quadro l'autorità nazionale palestinese alla quale noi dobbiamo restituire un ruolo. Dopodiché l'altra priorità alla quale ci stiamo dedicando è chiaramente quella degli aiuti umanitari, della situazione di Gaza. Voi sapete che il governo italiano ha inviato già due aerei con generi umanitari. Abbiamo attivato un ospedale sulla nave Vulcano che attualmente si trova nel porto di El Arish. Su questa nave operano anche medici catarini. Io ho portato, quando sono stata alla COP28 a Dubai, dei medici, del Gaslini e del Bambin Gesù, dei pediatri per lavorare negli ospedali emiratini dove vengono curati prevalentemente bambini e donne palestinesi. E' molto importante che anche su questo si continui a fare questo lavoro e che lo si continui a fare anche con le altre nazioni per lavorare insieme a una de-escalation. E chiaramente poi l'interlocuzione anche con Israele che continua da parte nostra, insomma è abbastanza costante. Dobbiamo tutti quanti con responsabilità lavorare perché questa crisi non diventi il conflitto che secondo me Hamas voleva procurare. Presidente, nel cuore dell'Europa continua una guerra assurda che è cominciata con l'invasione da parte di Putin e eppure anche qui si fa un po' fatica, si comincia a intravedere negli Stati Uniti, ma non soltanto. Un po' una voglia di tacitare, di smettere di aiutare Kiev, l'Ucraina, nella speranza che questo possa indurre a un dialogo. Proprio oggi credo che il Ministro Crosetto abbia parlato del nostro impegno, credo che debba arrivare un nuovo pacchetto di aiuti. Noi confermiamo la nostra linea, confermiamo l'appoggio, le crede che l'Europa continuerà a finanziare Kiev fin quando sarà necessario o c'è davvero un momento in cui si sta tentando, pensando di cambiare linea, come per esempio alcuni repubblicani negli Stati Uniti stanno immaginando? Guardi, io posso dirle che credo sia giusto continuare a sostenere l'Ucraina, banalmente perché, come tante volte abbiamo detto, se noi consentiamo che saltino le regole del diritto internazionale, gli scenari di crisi si moltiplicheranno. Prima sentivo il Presidente raccontare di un anno difficile, quasi impossibile, immaginate quale sia il mio osservatorio. È un anno nel quale noi abbiamo visto moltiplicarsi gli scenari di crisi dal Medio Oriente, ma penso ai Balcani Occidentali, penso all'Azerbaijan, insomma. Io credo che sia anche figlio della violazione aperta del diritto internazionale che si è consumato con l'invasione russa dell'Ucraina. E credo che questa sia la ragione per la quale dare un segnale di determinazione sia fondamentale anche per noi. Dopodiché io sento molto parlare di questi risultati, diciamo, nell'avanzata Ucraina, inferiori a quelli che ci si immaginava. Però penso che si debbano anche tenere in considerazione alcune questioni. Penso che si debba tenere in considerazione che Kiev va liberato buona parte del suo territorio. Penso che si debba soprattutto tenere in considerazione il fatto che oggi è inimmaginabile ogni ipotesi di invasione totale dell'Ucraina a fronte di quella che quando fu avviata nelle intenzioni, diciamo così, imperialiste di Putin doveva essere una sorta di guerra lampo. E questa stoica resistenza degli ucraini, grazie anche al sostegno dei paesi occidentali, ha allontanato la guerra da noi. Perché se quella guerra lampo fosse riuscita, se quella invasione lampo fosse riuscita, noi banalmente ci saremmo ritrovati a una guerra più vicina a casa nostra. Perché la Russia non si sarebbe fermata. Penso che dobbiamo per questo essere riconoscenti ovviamente al popolo ucraino, penso che dobbiamo essere fieri del lavoro che abbiamo fatto, penso anche che dobbiamo essere consapevoli della stanchezza che c'è nelle nostre opinioni pubbliche e che nessuno ha mai negato. E questa è la ragione per la quale, mentre sosteniamo l'Ucraina, noi dobbiamo essere efficaci anche nella capacità che abbiamo di dare delle risposte alle nostre società sulle conseguenze del conflitto. Guardi, le faccio un esempio. Noi discutiamo adesso di revisione del bilancio pluriannale dell'Unione Europea, sarà uno dei temi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Europeo. E chiaramente c'è la difficoltà a individuare nuove risorse, se debbano essere soldi freschi, se debbano essere riallocazioni di risorse già in utilizzo. E c'è chi dice troviamo solamente le risorse che sono necessarie a sostenere l'Ucraina, ma secondo me sarebbe un errore anche per il nostro, diciamo o no, per la compattezza del nostro fronte rispetto al sostegno alla causa ucraina. Perché noi dobbiamo saper dare risposte anche ai cittadini che stanno pagando le conseguenze di questo conflitto. E quindi dobbiamo dare risposte su diversi altri fronti. È il motivo per il quale l'Italia sostiene il tema di una logica a pacchetto nella revisione del bilancio pluriannale. Dopodiché però io capisco e conosco le difficoltà, ma penso che sarebbe un errore fare un passo indietro. Penso che la condizione base, l'ho sempre detto, lo ribadisco, lo credo fortemente, per arrivare a qualsiasi forma di soluzione di questo conflitto sia consentire all'Ucraina di essere competitiva. Se non c'è equilibrio delle forze in campo, e non ci sarebbe stato se noi non avessimo dato il contributo che abbiamo dato, se non c'è equilibrio tra le forze in campo, non c'è alcuna ragione di sedersi a un tavolo delle trattative per trovare una soluzione. Presidente, buonasera, ha parlato di una settimana impegnativa. Tra i dossier che dovrete affrontare al Consiglio europeo c'è anche quello del patto di stabilità, a cui il governo peraltro ha legato anche nella logica a pacchetto, come diceva, la ratifica del MES, che sta alimentando discussioni in queste ore anche in Parlamento. volevo capire intanto che giudizio dà dello stato della trattativa, della posizione che è emersa dall'ultimo eco, fino anche se ancora non si è conclusa, e se effettivamente la discussione sul MES se litterà al 2024 come sembra, e in quella occasione il governo che posizione prenderà. Dunque, tanto voglio ringraziare Silvia Gasparetto, perché insomma me la ritrovo ovunque, quindi diciamo una persona che sa fare bene il suo lavoro, battute a parte. Dunque, la riforma del patto di stabilità in realtà non è specificamente uno dei punti all'ordine del giorno della riunione del Consiglio europeo, perché come sapete c'è stato un ecofin che ha rinviato a un'ulteriore riunione dell'ecofin la decisione definitiva, quindi formalmente non è iscritto nell'ordine del giorno, ma è sicuramente insomma uno dei temi, è in assoluto il tema che ci sta impegnando di più a livello di trattative, è una trattativa molto serrata, e penso che la posizione italiana sia una posizione chiara, che tra l'altro diciamo viene compresa e rispettata. non so fino a dove si riuscirà ad arrivare nel tentativo di trovare una sintesi tra posizioni che in partenza sono molto distanti, però io credo che l'Italia stia ponendo una questione che non è, diciamo così, il tentativo di modificare il patto proposto da una nazione che vuole spendere liberamente soldi a pioggia senza senso. Noi da una parte abbiamo dimostrato con il lavoro che abbiamo fatto in questo anno e più la serietà con la quale affrontiamo le materie, diciamo così, di bilancio. Dall'altra la questione che poniamo, una questione che va nell'interesse non solamente dell'Italia, ma dell'Europa intera, ed è abbastanza semplice, capire se l'Unione Europea vuole o non vuole avere una strategia in questo contesto. L'Unione Europea ha, diciamo, stabilito una strategia. Ha stabilito una strategia per la sua competitività, ha stabilito una strategia sulla base delle sue priorità, ha stabilito che per quella strategia fosse importante avviare la transizione verde, la transizione digitale, che avesse senso, diciamo, anche rafforzare la propria capacità di difesa e quindi ha spinto i Paesi membri a investire su queste materie. Ha per questo istituito il Next Generation EU, dal quale sono nati i piani nazionali di ripresa e resilienza, cioè sta facendo un lavoro. Ora, che cosa chiede l'Italia? L'Italia chiede una cosa banale, e cioè che gli investimenti che vengono fatti, anche incentivati dall'Unione Europea, su alcune materie considerate strategiche dall'Unione Europea, vengano riconosciuti nelle regole della governance. Perché francamente non mi pare di dire una cosa, diciamo, folle, se dico che non si può da una parte chiedere agli Stati di investire su alcune priorità e dall'altra, diciamo, fingere che questo non sia utile o addirittura arrivare a delle regole di governance che puniscono i paesi che investono su quelle priorità. Quindi il tema per noi è il tema degli investimenti. Dopodiché non posso scendere troppo nel concreto, perché, come voi sapete, la trattativa è aperta. Noi stiamo portando avanti, diciamo, un approccio molto pragmatico e delle posizioni costruttive. L'unica cosa, chiaramente, che non ci si può chiedere di fare e dire di sì a un patto di stabilità che, non dico questo governo, ma nessun governo italiano potrebbe, nel caso, rispettare, perché non sarebbe serio da parte nostra. Per quello, però, insomma, io vedo degli spiragli, per cui, insomma, siamo al lavoro per una soluzione seria che tenga conto del contesto nel quale operiamo, perché l'Europa deve essere all'altezza della situazione nella quale si trova. Per quello che riguarda il MES, guardi, vedo un dibattito molto italiano, se posso dire anche, diciamo, molto ideologico, testimonia un po' la strumentalità di certe posizioni. Ho detto e ribadisco quello che penso, e cioè che non si possa parlare di MES se non si conosce il contesto. E francamente, leggo interviste, dichiarazioni, e che sai, fanno anche abbastanza sorridere, no? No, leggevo stamattina la segretaria del Partito Democratico, Elie Schlein, che diceva non possiamo tenere ferma tutta l'Europa. Forse la segretaria del Partito Democratico non sa che il MES è uno strumento che esiste, che chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare, e semmai ci si dovrebbe interrogare sulla ragione per la quale, in un momento nel quale tutti quanti facciamo i salti mortali per reperire risorse, nessuno voglia attivarlo. Semmai quello sarebbe il dibattito da aprire. E l'altra grande domanda che ho da fare ai partiti dell'opposizione è siete stati al Governo quattro anni, ma perché non l'avete ratificato, se era così fondamentale, diciamo, farlo in tempi rapidi. Cioè io penso che la strumentalità di certi dibattiti in chiave interna non tenga conto anche dell'eventuale danno che si arrega all'Italia. Un Governo serio tiene conto del contesto e in quel contesto fa calare degli strumenti, perché noi stiamo parlando di strumenti e non di totemi ideologici. E io così ragiono. Quando saprò quale è il contesto nel quale mi muovo, saprò anche che cosa, secondo me, dal mio punto di vista, bisogna fare del MES. Fermo restando che continuo a ritenere lo strumento uno strumento che ad oggi non è stato utilizzato neanche quando era stata attivata una linea di credito durante la pandemia che aveva minori condizionalità, perché purtroppo è uno strumento rispetto al quale gli Stati, prima di accedere, si pongono un problema di che tipo di messaggio danno al resto del mondo. E è un tema che, secondo me, va valutato, perché sono molte risorse che si rischiano, diciamo, di tenere ferme e che non vengono utilizzate quando potrebbero essere utilizzate magari in maniera più efficace. Presidente, so che, appunto, come ci ha detto prima, ha un'agenda fittissima. Ah, è tardissimo, sì, mi sta qui facendo dei gesti. Sono troppo lunga nelle risposte. Vi chiedo scusa. Non ho il dono della sigla. Ci sarebbe piaciuto averla qui con noi, perché le avremmo dato il libro fisicamente, ma avremo modo di portargli o di fargliela avere. La ringraziamo, gli facciamo auguri di buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Scusatemi davvero se non sono riuscita a essere presente fisicamente. E buon lavoro. Grazie, Silvia.